ciao a tutti anime bentornati su quinta dimensione letture allora pensa ad una situazione perché andiamo a esaminare come potrebbe andare va bene quindi puoi pensare tranquillamente a qualcosa di qualsiasi ambito e settore può essere l'amore può essere il lavoro può essere la famiglia qualsiasi cosa vediamo stesa unica quindi se ti arriva è per te altrimenti non ti sarebbe arrivato perché la sincronicità divina non sbaglia ricordo a tutti di seguirmi di fare l'iscrizione chi vuole delle consulenze private può andare su quinta dimensione letture punto it commentate lasciatemi un like e incrociamo le dita per questa lettura che dia risposte a più persone possibili vediamo la situazione per chi sta ascoltando la situazione come potrebbe evolvere come potrebbe andare qualcuno attende notizie e qualcuno sembrerebbe anche che sta interrogando per cose abbastanza ufficiali diciamo qua è allora intanto vi dico questo la situazione una situazione karmica che deve essere diciamo passata in questo momento forse qualcuno sta subendo delle cose diciamo che ha dato da molto ma non riceve sembrerebbe da qui la stessa cosa e questo è un po una lezione sul dare sul ricevere qui ci vorrebbe un po di sano egoismo della serie allora tu dai in base anche a quanto magari poi potresti ricevere perché non è che bisogna solo dare nella vita bisogna anche per esempio nelle situazioni di coppia perché qua ci vedo anche un discorso amore per diversi insomma all'ascolto è un collettivo è però non è che si può solo uno dei due deve sempre dare l'altro no quindi equilibrio qui ci vuole dell'equilibrio in questa lettura e vediamo infatti secondo me sono anche persone come come posso dire comunque con rapporti ufficiali qualcuno anche con figli sembrerebbe vediamo come potrebbe evolvere la situazione qualcosa va ad accadere comunque ma abbiamo una preponderanza di energia di matto quindi ecco qua le notizie allora che potrebbero succedere di improvviso mi dicono le carte di improvviso delle cose che possono ribaltare la situazione perché abbiamo una notizia anche abbastanza veloce diciamo da quando trovi questo video da quello che vedo qua perché abbiamo un asso di bastoni che ci porta proprio la notizia veloce veloce però attenzione perché potrebbe essere una situazione che si evolve purtroppo abbiamo l'arcano matto che di solito insomma non ci dà grandi speranze a livello come posso dire di durata delle cose magari può avere uno slancio questa situazione anche a breve però potrebbe non durare quindi della serie facciamo un passettino oggi però magari fra un mese si ripresenta la stessa cosa ecco questo voglio dire va bene qui riguarda molto anche donne diciamo sposato donne comunque che hanno una famiglia vede una situazione comunque seria tra virgolette diciamo comunque situazioni tra compagno compagna comunque chi ha una casa qualcuno che se ne potrebbe essere andato per egoismo quindi potrebbero esserci a breve delle novità però vada bene cara anima che è una novità che potrebbe non avere una durata lunga quindi valuta bene al momento che si presenterà questa cosa grazie a tutti lasciatemi un like seguitemi anche su youtube quinta dimensione letture a presto